Musica Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. All'Università di Teramo si è svolta questa mattina la prima riunione operativa dell'Ufficio regionale per la ricostruzione i 23 sindaci dei comuni del cratere sismico. Presente anche il governatore della regione Luciano D'Alfonso che ha chiesto ai primi cittadini di privilegiare la ristrutturazione delle scuole nei centri storici e di limitare le delocalizzazioni. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. I 23 sindaci dei comuni abruzzesi del cratere sismico si sono riuniti per la prima volta all'Università di Teramo alla presenza dei vertici dell'Ufficio regionale per la ricostruzione e del governatore D'Alfonso. L'iniziativa si pone nell'ottica di velocizzare la riparazione o la riedificazione ex novo delle scuole e delle abitazioni danneggiate dal terremoto. Per questo è stato chiesto ai sindaci di compilare e presentare all'Ufficio per la ricostruzione entro la settimana le schede riferite al proprio territorio. Ci sarebbe da dire finalmente. Il rapporto con l'Ufficio della ricostruzione è iniziato da poco perché da poco è stato costituito. credo che si siano create delle solide basi per una collaborazione, una proficocollaborazione. Questa mattina siamo qui riuniti per la prima volta tutti i sindaci del cratere, quindi inizierà un lungo lavoro e spero che sia, ripeto, il più proficuo possibile. Qual è il primo passo che farete? Questa mattina parliamo della perimetrazione delle aree dei centri urbani, di un'ordinanza che sta per uscire e quindi inizieremo a valutare questo provvedimento. Il primo approccio con l'Ufficio sarà quello relativo alla riparazione delle case danneggiate, delle abitazioni danneggiate con danni lievi, quindi i famosi SITB. Su queste c'è la volontà da parte dell'amministrazione di accelerare il lavoro di riparazione per far rientrare a casa le persone. Intanto l'Ufficio regionale per la ricostruzione, che ha sede a Teramo, resterà ubicato al Genio Civile. Non occuperà più i locali del Parco della Scienza, come era stato stabilito in un primo momento. Sono tanti cittadini che lamentano ritardi e lungaggini nelle procedure di presentazione e lavorazione delle pratiche. Non sembra però preoccupato il direttore dell'Ufficio, Marcello D'Alberto. Con i comuni, ecco qua, oggi li incontriamo per rientrare gli adotti di due ordinanze emanante. Prima li vogliamo condividere con loro per apportare dei piccoli ritocchi o comunque delle migliorie. Dopodiché renderemo operative queste due ordinanze oggetto di discussione e andiamo avanti sulla pianificazione attuativa dei singoli territori. Vi accusano di ritardo. Perché questo ritardo? Il ritardo non ne vedo assolutamente. Poi le accuse lasciano il tempo che trono. Noi stiamo lavorando in termini di pianificazione. Operiamo a stretto contatto con l'Ufficio commissariale che ha sede a Roma e stiamo elaborando secondo il loro programma di lavoro. In chiusura dei lavori il governatore D'Alfonso ha rivolto ai 23 sindaci del cratere una raccomandazione sulle scuole da ricostruire. Privilegiare sempre la possibilità di riparare quelle che sono all'interno dei centri storici e che ne garantiscono la vitalità. Cambiamo argomento adesso e parliamo di trasporti. Si torna a parlare di spostamenti su rotaie e del potenziamento necessario per garantire minor tempi di percorrenza sulla tratta Pescara-Roma. Questa mattina il Movimento Democratico e Progressista ha esposto un documento che testimonia la riduzione dei costi e del tempo di percorrenza sulla rotaia rispetto a quello autostradale. Francesca Romana Testi. Secondo uno studio presentato dal Movimento Democratico Progressista, la tratta Pescara-Roma su rotaia finita già molte volte sotto la lente per le critiche dei pendolari su tempi di percorrenza e frequenza delle partenze nell'arco della giornata potrebbe subire una riduzione consistente nei tempi grazie a un potenziamento della linea ferroviaria del costo di 2,97 miliardi, abbassando di 60 minuti la sua attuale durata. Ma non basta, per essere ancora più chiari i rappresentanti del Movimento hanno comparato un altro dato. L'operazione di modifica della tratta autostradale A24-A25 della strada dei Parchi, finalizzata allo stesso scopo, costerebbe 6,70 miliardi di euro con una riduzione di percorrenza di soli 39 minuti. Non solo questa proposta è ampiamente sostenibile dal punto di vista oltre che ovviamente ambientale e di risposta alla sismicità del territorio, anche dal punto di vista della sostenibilità sociale istituzionale e soprattutto economico-finanziaria. Questi interventi di messa in sicurezza andavano fatti e programmati ben prima e sussiste un obbligo oltre che di legge anche contrattuale. Obiettivo finale dello studio è quello di eliminare, una volta per tutte l'ipotesi di modifica del tracciato autostradale che comporterebbe una spesa superiore due volte a quella da operare sulla linea ferroviaria, che inoltre garantirebbe un minore impatto sull'ambiente e costi minori anche per i viaggiatori. Per esempio noi pensiamo a un collegamento con un treno veloce tra Pescara e Roma e viceversa che parta la mattina e che non abbia fermate intermedie e che quindi abbatta i tempi di percorrenza sotto le tre ore e quindi la Pescara-Roma deve rinascere e può rinascere con un progetto strategico che migliori il tracciato ma anche con proposte concrete che riavvicinino i pendolari studenti, turisti, persone che devono andare per lavoro a Roma a prendere il treno piuttosto che prendere la macchina o l'autobus. Adesso una notizia di cronaca. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri a Monte Silvano dopo una tentata rapina. Lui è armato di ascia, i danni di un anziano durante la notte a Monte Silvano. I manette sono finiti. Antonio Paolino, 36 anni, di Atri, prima, residente a Castiglione Messerraimondo e poi la convivente Yolanda Stavieschi, polacca di 42 anni, residente a Scapoli, Isernia e incensurata. I militari sono intervenuti attorno alle due di notte nell'abitazione dell'anziano in via Chieti e hanno colto i due in flagranza di reato. L'uomo era stato immobilizzato dalla donna che nel letto, mentre lo minacciava Collascia ha cercato di farsi consegnare i soldi e la carta del banco. Matti due hanno anche messo a soccuadro l'appartamento, mentre la vittima è riuscita a prendere il telefono e ad avvisare la centrale operativa dei carabinieri. D'ora cambiamo argomento. Ci occupiamo delle bandiere blu. Sono otto quelle conferite per il 2017 alle spiagge abruzzesi. Entrano nel novero delle località insignite dalla FEE, Roseto degli Abruzzi e Giulianova il servizio. L'Abruzzo avanza nella speciale classifica delle bandiere blu nazionali che certificano la qualità delle acque e dei servizi erogati ai turisti, portando a casa per l'estate 2017 due vessilli in più rispetto allo scorso anno. Gli otto riconoscimenti conseguiti nel 2017 però sono ben lontani dai 14 del 2013 o dai 10 del 2014. È la provincia di Teramo comunque a fare la parte del Leone con le new entry Roseto degli Abruzzi e Giulianova. I riconoscimenti sono stati assegnati a Tortoreto Spiaggia del Sole, Giulianova lungomare Spalato e lungomare Zara, Roseto degli Abruzzi, lungomare Sud, lungomare Nord e lungomare centrale, Pineto, lungomare dei Pini, Pineta a Catucci, Santa Maria a Valle Nord e Santa Maria a Valle Sud, Torre del Cerrano, Corfu e Villa Fumosa e infine a Silvi nel lungomare centrale. In provincia di Chieti invece hanno conquistato le bandiere blu Fossa Cesia Marina, Vasto Punta Penna, Vignola e San Salvo Marina. L'incremento della qualità delle acque in Abruzzo fa il paio con il trend nazionale. Salgono infatti a 342 e a 293 le spiagge sulle quali sventolerà la bandiera blu assegnata dalla FEE per questa trentesima edizione in 163 comuni e 67 approdi turistici. L'assegnazione avviene sulla base di 32 criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, dalla depurazione delle acque alla gestione dei rifiuti, dalle piste ciclabili agli spazi verdi ai servizi degli stabilimenti balneari. La Liguria si conferma regina del mare eccellente arrivando a 27 località con due nuovi ingressi. Seguono come lo scorso anno la Toscana con 19 località e le Marche con 17. Restiamo sempre in tema di balneazione. Verrà discussa al TAR la vicenda delle scogliere di Francavilla al mare poste dai balneatori a protezione degli stabilimenti nella zona nord della città a Pretaro. Il comune ne chiede la rimozione prima della stagione estiva. Gli operatori turistici si sono opposti. Dettagli nel servizio. Le mareggiate che nel corso dell'inverno si sono abbattute sul litorale di Francavilla al mare hanno provocato danni principalmente nella zona nord con stabilimenti lesionati e metri di spiaggia erosi dalla forza del mare. Per provare a porre rimedio i balneatori della zona di Pretaro hanno chiesto ed ottenuto al comune la possibilità di posare delle scogliere radenti a difesa della costa collocate in acqua una decina di metri dalla battigia. Ma il posizionamento di queste barriere ha provocato un contenzioso tra i tecnici e i balneatori. Il nodo della questione sembra essere l'attuale posizionamento in acqua delle rocce che ha creato una seconda linea di scogliere oltre a quella già presente. Il comune infatti può autorizzare una simile operazione in via temporanea rimuovendo gli scogli prima della stagione estiva facendo però posare i massi sulla sabbia e non in acqua già che l'ente locale non ha alcuna potestà decisionale sul mare che invece spetta la regione che pare però non abbia autorizzato l'intervento. I balneatori invece sostengono che tutto si è svolto in piena regola. Da qui la decisione di far dirimere la questione all'altare il Tribunale Amministrativo Regionale. Nel frattempo è pronto un finanziamento della regione da 950 mila euro proprio per i problemi della costa nord di Francavilla. In seguito a un sopralluogo abbiamo constatato che in verità erano state messe un po' più in là e quindi leggermente al di dentro dell'acqua. Ovviamente gli uffici tecnici hanno rilevato questa cosa, hanno immediatamente fatto un provvedimento col quale si intima a questi balneatori di rimuovere queste scogliere anche in virtù del fatto che sta per iniziare la stagione balneare. Questi balneatori si sono opposti e quindi ci sarà un'udienza al Tarno nel quale si discuterà sulla validità o meno del nostro provvedimento di rimozione. Non mi va di dare troppo addosso a loro perché sono in difficoltà. Noi abbiamo 7 km di costa perfettamente balneabile con delle spiagge belle ed attrezzate. Questa è una piccola zona a confine nord con Pescara che paga purtroppo l'erosione che si è sviluppata proprio grazie all'ultimo intervento del scogliere fatto dal comune di Pescara, quindi dal pennello del progetto Ricama. Cambiamo argomento. Il Centro Servizi per il Volontariato di Pescara ha esposto le attività in programma nell'area vestina e il piano formativo dedicato alle associazioni del territorio, centrali nell'incontro di Colle Corvino, i temi legati ai processi di crescita per diventare competitivi nell'attuale sistema nazionale ed europeo delle risorse, la valutazione dell'impatto come strumento di sviluppo per le associazioni di volontariato, il cambiamento del sistema di welfare e il ruolo delle associazioni in questa fase di profondo cambiamento della comunità. Sentiamo il servizio di Vestina News. Un incontro con le associazioni dell'area vestina organizzato dal Centro Servizi del Volontariato di Pescara per presentare il piano formativo e promuovere, sostenere e rafforzare il volontariato. Noi abbiamo fatto una scelta, la scelta di partire con la piazza del bene comune che è stata lanciata a Pescara il 3 febbraio e con questa scelta abbiamo deciso di andare più vicino a tutte le associazioni del territorio, tra le quali naturalmente sono molto importanti quelle dell'area vestina. E quindi siamo qui questa sera per ribadire questo concetto e per presentare le iniziative di formazione che faremo nel corso dell'anno 2017. All'incontro presente Stefano Ghino, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per parlare del cambiamento delle politiche sociali e del lavoro. Viviamo in un periodo in cui tutto cambia, tutto sta cambiando, le sfide sono sempre più importanti. importanti, quello che è il cambiamento più generale del paese, del sistema di welfare che chiede al volontariato è sempre più importante e quindi anche i volontari devono essere sempre più preparati, sempre più pronti a rispondere positivamente. Questo per il benessere loro e per il benessere di quelli che aiutano, che accompagnano per il servizio che rendono. L'incontro, ospitato nella sala polivalente del comune di Colecorvino, con il sindaco che ha voluto rimarcare l'importanza del sapere amministrare un'associazione. Gestire un'associazione in maniera corretta sotto il profilo giuridico e anche economico, contabile, è molto molto importante. Ormai non esiste più un'associazione che viene gestita così in maniera familiare, ma ci sono delle cose da rispettare. E poi le associazioni hanno delle difficoltà nel momento in cui devono rendicondare ai comuni oppure devono partecipare a degli avvisi della regione Abruzzo. Uno spazio autogestito dai giovani dove incontrarsi e vivere interessi comuni. Regione Abruzzo e Comune di Pescara hanno finanziato il restyling di un istituto scolastico per creare un centro di aggregazione giovanile. Vediamo. Un percorso che prende le sue mosse nel novembre 2011 con una manifestazione di varie associazioni giovanili di Pescara per la richiesta di un centro socioculturale. Nel 2015 poi la vittoria del bando regionale per l'assegnazione di fondi destinati ad uno spazio ricreativo per giovani. E infine l'ufficializzazione dell'assegnazione e del luogo al loro destinato nel 2016. Un lungo cammino che oggi arriva al taglio del nastro con un fondo di 50.000 euro al quale ha partecipato anche l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Pescara. Nasce in via del circuito, nella sede di una ex scuola, lo SPAZ, il centro di aggregazione giovanile gestito da tre associazioni. Secondo me è un'iniziativa sicuramente storica per questa città. Sin da quando ero ragazzo questa città ha avuto necessità e si meritava anche di avere spazi autogestiti di ragazzi perché il mondo giovanile a Pescara è particolarmente vivace, dinamico e produttivo di attività sociali, culturali, musicali, creative. E' uno spazio che loro hanno la responsabilità e il dovere ma anche il piacere di poter articolare con tutte quelle iniziative che vogliono mettere in campo, dalla sala studio alla sala di català, allo sport, alla formazione, alla musica. Cioè penso che è una cosa davvero storica per questa città anche perché uno spazio così bello in una zona non centrale può diventare davvero un fuoco acceso di iniziative e partecipazioni anche in questo punto della nostra città. Chi sono i ragazzi che gestiranno questo luogo? Sono le due associazioni che hanno vinto il bando per le reti di aggrazione giovanile della regione, cioè la Soma e 360 gradi. Ragazzi delle scuole, superiori, ragazzi dell'università, tutti giovani con tantissime idee e ottimi programmi che rendono questo luogo davvero qualcosa di fantastico. Andiamo avanti, apriamo la pagina dello sport e lo facciamo purtroppo con una notizia di cronaca, un petardo di grosse dimensioni simile ad una rudimentale bomba a carta è stato lanciato nella notte intorno alle 23 di ieri sera nel recinto dell'abitazione del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, mentre le immagini che state vedendo si riferiscono all'attentato incendiario di qualche settimana fa. Non ci sono stati danni per quanto riguarda lo scoppio di questa notte che ha svegliato le persone che abitano nella palazzina, subito sono intervenuti gli agenti della volante e poi della Digos che hanno avviato le indagini. I residui del petardo sono stati sequestrati dai poliziotti per essere analizzati. Nelle prossime ore gli investigatori avranno a disposizione anche le immagini delle telecamere interne e di quelle posizionate all'esterno per visionarne i filmati. Nella notte fra il 6 e il 7 febbraio, e proprio le immagini che state vedendo, persone risultate vicine alla tifoseria pescarese non organizzata, avevano incendiato due auto del patron, sempre all'interno della villetta in via Riviera Nord. Per quell'episodio sono state indagate tre persone, altre due sono in via di identificazione. Enesima delusione per il Pescara in campionato all'Adriatico Cornacchia, ieri la sconfitta contro il Crotone. Decide un euro-goal di Tonev che permette all'undici calabrese di continuare a sperare nella salvezza diretta, nonostante i risultati positivi delle dirette rivali. Il servizio è di Paolo Renzetti. Nello stadio dove aveva disputato le prime gare di campionato per la momentanea indisponibilità dell'Ezio Scida, il Crotone trova una vittoria di speranza contro il già retrocesso Pescara per continuare ad alimentare le realità di permanenza in Serie A. E tutto questo nonostante i successi dell'Empoli e del Genoa contro l'Inter. I calabresi, grazie ad un euro-goal di Tonev, rimangono in corsa anche se la salvezza resta difficile per i risultati positivi proprio delle dirette concorrenti. Si comincia a ritmi blandi con il Crotone che si vede al decimo con un tiro centrale di trotta parato a terra da Vincenzo Fiorillo. Al ventiduesimo sempre ospiti pericolosi, questa volta con Nalini che al volo dall'interno dell'area di rigore trova una deviazione in calcio d'angolo. Sono gli ospiti a cercare di fare la partita con pochi rischi però per la difesa bianca azzurra. La prima conclusione nello specchio della porta dell'esperto portiere calabrese è di Ben Ali al trentaduesimo che però in area gira debolmente fra le braccia del portiere del Crotone. Al trentaseiesimo brividi per la difesa pitagorica con Baybeck che in area con la punta del piede contrastato da Rosi indirizza la palla però al lato della porta ospite. Al trentasettesimo Cordaz sbaglia poi l'uscita e Baybeck si ritrova alla porta spalancata andando però a trovare il salvataggio di Ferrari prima della linea. Al quarantesimo Caprari lanciato in area in contropiede termina a terra dopo un contrasto con Ceccherini e con Russo che lascia però proseguire fra le proteste abruzzesi. Ci sarà il cartellino giallo anche per il giocatore di proprietà dell'Inter. Finale di tempo tutto locale visto che al quarantacinquesimo Ben Ali in area trova ancora una deviazione sulla sua conclusione ravvicinata. Nella ripresa l'ottavo Crotone è pericoloso con un tiro al volo di Ceccherini che non inquadra lo specchio della porta. La gara stenta a decollare. La squadra di Nicola nonostante le notizie poco incoraggianti che arrivano da Empoli sembra però più propositiva grazie anche all'innesto di Acosti. Le emozioni sono però merce rara con i due portieri praticamente inoperosi. Nelle Pescara entrano i giovani Cunibali e Miuric e con l'ex Ajax che in area conclude a giro mandando il pallone di poco fuori. Non sbaglia però al ventisettesimo il ne ho entrato nel Crotone Tonev che con un Eurogoal sblocca il risultato mettendo la palla all'incrocio dove Fiorillo non può arrivare. Il Pescara cerca di reagire ma al trentunesimo Ben Ali cade in area dopo un contrasto con Ferrari. Potrebbero anche esserci gli estremi per il calcio di rigore ma Russo lascia proseguire e va prima ad ammonire e poi ad espellere il giocatore del Pescara per reiterate proteste con il Crotone che senza grosse difficoltà congela la gara ed il risultato nei minuti finali in cui non accade più nulla per il Pescara. Un K.O. l'ennesimo di una stagione sotto tutti i punti di vista molto negativa. In una intervista a Lanza ci sono anche le reazioni del presidente Daniele Sebastiani alla bomba carta che questa notte esplosa all'interno del cortile della sua abitazione. Non mi faccio intimidire ha detto Sebastiani vado avanti per la mia strada ma quello che è accaduto è un episodio a dir poco deprecabile considerando quello che ho fatto per Pescara e per il Pescara negli ultimi cinque anni. Così come detto il presidente Sebastiani che ha continuato ero rientrato da poco a casa all'improvviso sentito un boato sono sceso giù in giardino dopo che un vigilante di uno stabilimento balneare che si trova di fronte a casa ha suonato il campanello allarmato dal fumo. Il presidente scosso dall'accaduto dopo l'incendio di due sue auto tre mesi fa ha poi aggiunto purtroppo gli stadi sono diventati delle zone franche dove si può insultare chiunque come accade da tempo all'Adriatico. Sebastiani ha poi commentato ancora questa è una società di capitali in cui io e i miei soci abbiamo il 70 per cento. Non si può andare via avanti così dalla sera alla mattina ci sono delle firme da mettere e soldi da tirare fuori. Questa vorrei dire a chi ci insulta è una società composta da persone serie che lavorano per il bene della società. Restiamo ancora a parlare di Pescara perché c'è un'altra notizia che questa volta riguarda il calcio giocato. La concomitanza del raduno nazionale dei bersaglieri con la gara di Serie A Palermo Pescara in programma domenica 21 maggio potrebbe portare al rinvio o al posticipo della partita per motivi di ordine pubblico. Il comune e la questora di Pescara nelle prossime ore inoltreranno alla Lega Calcio la richiesta di posticipo del match dalle ore 15 alle 20.45 o in caso contrario ad altra data. La 37esima e penultima giornata di campionato è programmata da regolamento tutta alla stessa ora ma si confide in un posticipo del match nella serata del 21 considerando che Pescara Palermo non influirà sulla classifica visto che entrambe le compagini sono già retrocesse in Serie B. Ed ora scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo che ha espugnato il campo della Feralpi Salò grazie ad un gol nella ripresa di Baccolo. La vittoria però non è stata sufficiente a centrare la salvezza diretta a causa della concomitante vittoria del Mantua. Per il Teramo si spalancano le porte del play-out. Sarà il Lumezzane a contendere al diavolo la permanenza in Lega Pro il servizio di Andrea Costantini. Il Teramo ritrova il gol e la vittoria ma non basta. La prevedibile vittoria del Mantua sul già salvo su Tirol condanne il diavolo all'appendice dei play-out con il Lumezzane. Gara d'andata in trasferta il 21 maggio, ritorno al Bonolis sette giorni dopo. Al Lino Turina di Salò il Teramo ha per la verità trovato contro un avversario con la testa già ai play-off. Il tecnico Serena preserva energie in vista degli spareggi e lascia in panchina Ferretti, Staiti, Guerra e Gambaretti affidandosi al giovane Luque in attacco con Gerardi e Bracaletti. 4-3-3 per Ugo Lotti che ripropone Spighi in mediana con Amadio e Ilari. Di Paolo Antonio, Frattangelo e Sansovini, tresso offensivo. La gara è subito nelle mani del Teramo che fa possesso palla ma fa fatica a creare palle-goli importanti. Illude peraltro l'iniziale gol del su Tiroli in casa del Mantua. Neanche il tempo di immaginare una salvezza diretta che i virgiliani ribaltano il risultato. Nel frattempo il Teramo ha con Sansovini la palla col migliore del primo tempo al 17esimo su assist di Di Paolo Antonio. La resistenza dei Leoni del Garda è flebile, Gerardi prova vanamente a farsi vedere alla mezz'ora. Nel finale di frazione il Teramo prova con un'altra accelerazione ma senza effetti. Dopo l'intervallo Ugo Lotti lascia negli spoleto il diffidato Ilari e inserisce Baccolo che risulterà il match winner. Poco dopo dentro anche Barbutti per Frattangelo e poi Carraro per Spighi. Sansovini è in leggero ritardo sul traversone di Di Paolo Antonio. Il Mantua sigla il terzo gol e chiude la sua gara. È chiaro che il Teramo gioca per la posizione nella griglia play-out. Caglioni non è perfetto sulla rasoiata di Carraro. Le offensive terramane trovano felice epilogo al 27esimo sugli sviluppi di una punizione. Carraro apre per Speranza che centra il rompe Baccolo che in due tempi batte Caglioni. Primo gol biancorosso per l'ex Catanzaro e Teramo che ritrova la rete dopo 445 minuti. La giocata di Sansovini invece dopo la mezz'ora dice che per il sindaco questo non è un momento favorevole. Raddoppio sferato e gara che non muta più risultato. Per la Feralpi girandola di cambi ma prestazione che resta al piccolo trotto in attesa del primo turno di play-off domenica prossima in casa della Reggiana. Per il Diavolo ora due settimane di attesa logorante prima di giocarsi salvezza e stagione in 180 minuti. Adesso apriamo la pagina dedicata alla Serie D. Come da copione il San Nicolò batte agevolmente la già retrocessa civita novese ma non riesce ad agganciare il secondo posto. La squadra di Epifani chiude in terza posizione nella semifinale play-off. Ospiterà domenica prossima al Bonolis la Vispesaro il servizio di Ania Cantagalli. Sfuma il secondo posto per il San Nicolò che dunque affronterà da terza in classifica la Vispesaro nella semifinale di Girone per i play-off. La stagione regolare si chiude con il successo dei Biancazzuri per 2-0 contro una civita novese già retrocessa. Epifani lascia a riposo la coppia centrale di difesa Milillo e De Santis sempre presenti in stagione e manda in campo Zetti e Mozzoni a loro posto con Moretti che torna subito titolare dopo le tre giornate di squalifica. La civita novese dal canto suo è tutta attrazione giovanile. Fabri classe 92 è il più grande degli 11 in campo. I Biancazzuri partono con il piede giusto con due occasioni nei primi due minuti di gara. Bisegna vede Moretti incunearsi tra i centrali ma l'attaccante indirizza troppo centralmente verso la porta a tu per tu con Busato. Azione quasi in fotocopia un minuto più tardi con Di Benedetto che imita Moretti nella gentilezza con cui prova a far male all'estremo avversario. Il San Nicolò concretizza poco prima del quarto d'ora quando Moretti trova il varco giusto per firmare il quinto gol stagionale. Biancazzuri che fanno ovviamente la gara e che passano sul doppio vantaggio al 26esimo con Chiacchiarelli bravo a trovare i tempi giusti per entrare in area e far male di nuovo a Busato. Poco dopo la mezz'ora Moretti viene servito sulla corsa da Bisegna ma il sinistro dell'attaccante finisce di un soffio a lato. Gli ospiti nel corso del primo tempo ci provano solo in un paio di tentativi dalla distanza. Nella ripresa il San Nicolò ci prova al dodicesimo con Chiacchiarelli che serve Bisegna dagli sviluppi di una punizione ma il tiro del giocatore biancazzurro viene murato e sul successivo tentativo di Chiacchiarelli Busato pare in due tempi. Pochi minuti dopo è ancora Moretti ad impegnare l'estremo ospite con pallone che viene messo in angolo. Al ventisettesimo Bosi trova il corridoio giusto per seguire Chiacchiarelli ma Busato non ha bocca al pallonetto dell'esterno di Epifani. Dieci minuti più tardi è ancora Bosi servito da Fulvi ad avere una buona occasione ma l'estremo difensore ci mette ancora una pezza. Dagli sviluppi dell'angolo Mozzoni manda di prima intenzione alto. Bosi al quarantatresimo centra poi in pieno la traversa con la gara che si chiude praticamente così. Il San Nicolò avrebbe dovuto vincere con almeno tre gol di scarto e sperare contemporaneamente che il Pineto battesse in Matelica per prendersi il secondo posto, miglior piazzamento in ottica playoff. Condizioni che non si verificano con il San Nicolò che dunque affronterà la semifinale di Girone contro la Vispesaro già domenica prossima. Teoricamente in casa ma vista la fiera dell'agricoltura in programma nel weekend proprio allo stadio di Piano Daccio il campo di gioco è ancora da stabilire con certezza. Per blindare il secondo posto nel Girone F il Matelica aveva bisogno di un risultato positivo a Pineto per i marchigiani è arrivata una vittoria firmata da perfetti con una grande conclusione dalla distanza e dunque il secondo posto come abbiamo anche già sentito dal servizio di Ana Cantagalli per la partita fra Pineto e Matelica sentiamo Roberta Di Sante. Ultimi 90 minuti prima dei titoli di coda di questo campionato il Pineto ormai salvo ospital Mariani Favone e un Matelica in lotta per difendere la migliore posizione nella griglia playoff dagli attacchi del San Nicolò. Cambio tattico per Amaolo che schiera in un inedito 3-4-3 con gli esterni Maloku e Fiumara avanzati sulla linea dei centrocampisti e in avanti con l'assenza di Palumbo per infortunio. Spazio al tridente con Ganci, l'ex di giornata Cacciatore e Cercelluti. Clementi che deve rinunciare all'under de Cerchio squalificato risponde con un 4-3-1-2 con Seitas che agisce dietro le punte Evacuo e Pera. Primo tempo equilibrato con i matelicesi che si portano pericolosamente in avanti nei primi minuti al sesto Evacuo prende la mira per poi ripetersi più pericolosamente all'ottavo ma sulla sua strada trova un miracoloso Mazzocchetti che con un gran colpo di reni da applausi toglie letteralmente la palla dal sette. Grande parata del numero uno pinetese che si guadagna la giornata la risposta dei locali al ventesimo con un'azione personale di esposito che fa tutto bene salvo poi concludere fuori bersaglio. Alla mezz'ora ancora Evacuo prova di testa ma trova Mazzocchetti pronto a bloccare. L'ultima occasione del primo tempo è per Cacciatore che si coordina bene ma la sua girata viene ribattuta dalla difesa per uno 0-0 parziale che ci può stare. Il pineto rientra motivato in campo nella ripresa e in avvio prova prima con Pomante che spedisce fuori e poi con Cacciatore che prova a mettere in movimento ganci anticipato dai bodi. Ma al 14esimo nell'unica sbavatura il pineto incassa la rete del vantaggio marchigiano con Perfetti che è lasciato libero di calciare dalla distanza pesca il jolly di giornata con la sfera che carambola sul palo ed entra in rete. Il vantaggio matelicese però scuote il pineto che vuole chiudere con un risultato positivo di fronte al proprio pubblico ed ha una grande reazione al 24esimo Malopu raccoglie un buon pallone ma viene murato da Mercantonini in uscita clamoroso al 26esimo quando Cacciatore serve Ciarcelluti che spreca incredibilmente calciando fuori. Ora però il pineto ci crede e continua a macinare gioco al 28esimo bella azione corale Cacciatore esposito logo luso con quest'ultimo che impegna Mercantonini che si fa trovare pronto anche sulla girata di Cacciatore. Il forcing pinetese meriterebbe il pareggio ma anche la conclusione di Poglietti al 34esimo lambisce il palo e termina fuori. Nel finale anche Pomante va a dare una mano in avanti segno del carattere di una squadra che nonostante la salvezza acquisita cerca di mettere in difficoltà il Matelica fino alla fine. Non basta ai biancazzurri una grande ripresa per pareggiare i conti con i marchigiani che conservano il secondo posto e affronteranno ai playoff l'Agnonese. L'Avezzano ha chiuso la stagione con una sconfitta di misura per 1-0 sul campo della Torres. La compagine marsicana conclude così il campionato all'ottavo posto con 46 punti all'attivo. La partita di ieri giocata al Vanni Sanna di Sassari è stata risolta da un calcio di rigore di Mucili nel secondo tempo. Vittoria inutile e amara tuttavia per i sardi che retrocedono in eccellenza a causa del distacco di 10 punti in classifica che non consente la disputa del playoff con i cugini del latte dolce. È tutto per la prima edizione del TG6. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.